Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. L'esperienza nel reparto di oncologia, che esperienza è stata? Che vita ha vissuto all'interno di quelle mura, di quei corridoi? Beh, di spavento quando appunto seppi che dovevo necessariamente togliere un rene e quindi di conseguenza, poi dopo, sono passati più di due anni però lo ricordo ancora con una tristezza e un'amarezza profonda che ancora adesso mi commuovo. Niente, sono stato per mia scelta affidato al reparto di oncologia di Teramo dove appunto, proprio qualche giorno fa, è stato fatto e vinto un concorso la dottoressa, credo, cannita, che mi dicono essere molto brava e noi siamo molto contenti, molto felici. Io non parlo a nome mio, parlo praticamente a nome di tantissimi pazienti affidati al reparto. Pazienti che hanno vissuto l'epoca di Amedeo Pancotti, l'epoca di Teresa Scipione anche. Io ho vissuto l'epoca di Pancotti perché appunto cominciai con Pancò, con il dottor Pancotti. Io voglio ringraziare personalmente e fare i complimenti, forse la dottoressa Canita mi dicono essere molto brava ma anche molto, molto fortunata secondo me perché arriva e trova un reparto che non è di serie B un reparto al quale non va dato nessun volto, come ho sentito in giro e come mi hanno soprattutto raccontato e il reparto io personalmente voglio fare e ringraziare tutti, tutto lo staff il dottor Cianci, la dottoressa Iello, la dottoressa Irelli, la dottoressa Cicconi, il dottor Napoleone e quindi tutto lo staff infermieristico, sociosanitario, gli psicologi. E poi ovviamente il capodipartimento. Sì, voglio ringraziare personalmente il dottor Dugo perché ci mette l'anima, ci mette la sapienza ma questo reparto ultimamente da un anno circa è stato guidato in un modo perfetto dal facente funzione la dottoressa Scipioni Teresa che da praticamente il suo tempo dedica la sua vita da anni, ci tengo veramente tanto a nome di tanti pazienti sottolineare questo che la dottoressa Scipioni lascerà un reparto a chi arriva veramente perfetto una macchina solo da guidare.